Sei pronto per un nuovo scoop sull'isola dei famosi? Kadi Guai, è di nuovo al centro dell'attenzione, questa volta per un acceso litigio con il naufrago Arthur Dainese. La causa dello scontro? La preparazione del pranzo. Arthur ha proposto di fare le porzioni, scatenando l'ira della concorrente. Kadi è stata implacabile nel criticare Arthur, che ha cercato di calmarla senza successo. La concorrente ha spiegato sui social di aver accumulato tensioni nei confronti di Arthur, che ora le danno fastidio. Lo scontro è proseguito senza esclusione di colpi, con Arthur che ha chiesto a Kadi di rispettarlo. Arthur ha poi parlato dello scontro con Kadi in confessionale, lamentandosi con gli altri naufraghi di non essere rispettato. Ha dichiarato di volere le scuse da Kadi per il suo comportamento. La concorrente, però, ha respinto le accuse di Arthur e ha chiesto di far silenzio. In confessionale, un altro naufrago ha spiegato che Kadi voleva pulire il pesce perché Arthur divideva il cibo in modo diseguale. Kadi e Arthur riusciranno a chiarirsi? Resta connesso per scoprire come si evolverà la situazione sull'isola dei famosi.